Leggo un articolo di una giornalista con l'indicazione come fonte iconografica Fonte Google Fonte Google Ma che fonte è Google? Che è un autore, un posto? Cos'è Google? È un motore di ricerca Spesso ci sono molti giornalisti o realizzatori di siti web Insomma persone che utilizzano le immagini Che riportano come riferimento, come fonte delle immagini internet Ma internet non è un autore, non è un posto Internet è il mezzo, è il mezzo con cui arrivo nel computer di qualcun altro Papale papale Ora, non è vero che se l'immagine si trova su internet Che non vuol dire nulla, cioè è in giro per il mondo La posso prendere e utilizzare Tanto quanto non è vero che se trovo una bicicletta per strada In giro per il mondo, la posso prendere e utilizzare Era lì, era in giro No, non è vero, è le bici di un altro Quando una foto può essere utilizzata Una foto o un qualsiasi altro contenuto può essere utilizzato liberamente Perché l'ho trovato in giro Quando chi lo ha messo in giro Dice apertamente Ragazzi, questa è una cosa che ho fatto io Ma sono contento se l'utilizzate Se l'utilizzate Basta che citiate il mio nome È il caso delle licenze Creative Commons Con l'indicazione esplicita di questa possibilità In quel caso e solo in quel caso Poiché l'ho trovata Grazie a internet, non su internet La posso utilizzare Altrimenti, no, è la bicicletta di un altro Internet è il mezzo con cui arrivo nel computer di un altro E nel computer di un altro Si fa quello che vorrebbe fare il patrone di casa Del computer Semplice